Sono alle ore 17.30 dell'11 agosto 2012, si è appena conclusa la farsa di partita Juventus Napoli e qui c'è un mega rogo che allieta i respiri di tutti gli abitanti di Giuliano, Villa Ricca, Gualeano, Villa d'Iterno, Casa Pesina e così via. Il posto è sempre quello, terra dei fuochi.